Signori e signori, lo chiamo, poi parliamo un attimo con lui, è il momento di Daniele Narducci! Buonasera a tutti! Ciao Daniele! Daniele Narducci, lo avrete visto alla prima puntata dei Raccomandati, l'ha vinta, devo dire meritatissimamente, in coppia con Massimo Ranieri. Devo dire un successo fantastico, hai sicuramente sbancato veramente tutto quanto, l'augurio è naturalmente che tu possa vincere l'edizione dei Raccomandati, che è il 5 marzo prossimo, quindi ricordatevi, è importante, quando lo vedrete esibirsi sul Rai 1, quindi sempre con Massimo Ranieri, perché la coppia è fissa, votatelo Daniele Narducci, mi raccomando è importante, anche perché soltanto per il fatto che è venuto con noi questa sera qui, e che ha dato il suo contributo per questa solidarietà importante per l'ospedale San Damien di Haiti, soltanto per questo vorrei che gli faceste un grande applauso, incredibile! Io posso dire che Daniele, mi viene sempre da chiamarlo Danielino, perché Daniele l'ho visto veramente piccolo, ho avuto il piacere di presentarlo veramente alle prime armi, l'ho visto crescere non solo dal punto di vista fisico, ma anche professionalmente, e devo dire che questa sera mi hai fatto veramente un grande regalo Daniele, veramente grande nell'essere qui, io so che tu in questo momento hai grandi impegni, ovviamente legati alla musica, ma il fatto di averti qui per me è veramente un grande regalo Eh no, guarda, so che però mi hai fatto un regalo nel regalo Doppio, sì, diciamo Questa è una sorpresa che mi ha fatto e me l'ha fatta questa sera, arrivando qua, perché signori e signori, direttamente da amici, canterà insieme ad Aliene Narducci, Valeria! Buonasera Buonasera Eccola Valeria, allora anche a te grazie, grazie veramente di avermi fatto questa sorpresa meravigliosa, e allora a questo punto vi lascio a questo pubblico meraviglioso che potrà ascoltare le vostre splendide voci, Daniele Narducci e Valeria con The Prayer Grazie I pray will be your eyes And watch us when we go And help us to be why In time when we don't know Let this be your pray When we lose our way When we lose our way When we lose our way Lead us to our place Gather us with your grace Give us space when we'll be safe La luce che tu dai And we'll find your light Nel cuore resterai Your hold is in your heart A ricordarci che And stack our rich night Eterna stella sei Nella mia pregie Let us be your prey Quanta fe de c'è You shite in finio day Feed us to our prey Guide us with your grace Give us faith so we'll be saved Sogniamo un mondo senza più violenza Un mondo di giustizia e di speranza Ognuno dia la mano al suo vicino Simbolo di pace, di fraternità Forza che ci dai E il desiderio che E il mondo di giustizia e di speranza E il mondo di giustizia e di speranza E il mondo di giustizia e di speranza Forno è dentro sé And there's so much you will hear Let this be your prey Let this be your prey Just like every child Just like every child It's a final prey Guide us with your grace Give us faith so we'll be saved E la pede che hai acceso in noi Sento che ci salverai Grazie Grazie Daniele Narducci Valeria Valente Non ho parole Non ho parole Prendetevi questo grande applauso Grazie Incredibile Valeria e Daniele Narducci Vi ricordo Daniele Narducci Finalista e raccomandati 5 marzo Votatelo Deve vincere Anche perché è stato con noi questa sera Grazie 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 del regalo immenso che ci avete fatto Grazie